Intercettazioni è il centro di residenza per Regione Lombardia. È composto da Circuito Claps, Zona K, Teatro delle Moire, Industria Scenica e Milano Musica. Il centro di residenza accoglie compagnie di danza, di teatro partecipato, di circo contemporaneo e di musica in creazione. Il progetto è sostenuto da Regione Lombardia, dal Ministero dei Beni Culturali e da Fondazione Cariplo. Grazie per la visione!